Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui voglio condividere con voi un leak interessante emerso su 4chan che potrebbe riguardare il futuro di Destiny 2, o meglio l'espansione prevista per questo turno, dunque l'anno 4. Come ben saprete sono sempre resti io a portare i leak perché molti di questi sono palesemente finti e non ho alcun interesse in fare visualizzazioni facili. Inoltre va anche precisato che 4chan non è proprio una delle fonti più attendibili, ci sono davvero fin troppi leak fake su quel portale, naturalmente parlo in ambito videoludico, le informazioni rivelate però questa volta hanno un che di verosimile e per quanto sia facile azzeccare alcuni di questi elementi non mi sorprenderebbe se queste informazioni potrebbero confermarsi veritiere, motivo per cui vi porto adesso questo video. Innanzitutto come vi dicevo si parla dell'espansione prevista per quest'autunno, che si chiamerà Destiny 2 Collapse, espansione che originariamente, stando sempre a queste informazioni, era prevista come base per Destiny 3. Considerando che Bungia adesso è indipendente e non deve più sottostare al contratto con Activision, questo aspetto lo trovo sensato, non mi sarei stupito più di tanto se Activision avesse spinto per quest'anno per un Destiny 3. Poi ci viene detto che questa espansione sarà grossa in stile rinnegati o ombre dal profondo, anche se spero più in stile rinnegati, visto che tuttora in Destiny penso sia il contenuto migliore a livello qualitativo e naturalmente il focus principale per quanto ne riguarda la narrazione dovrebbe essere sull'arrivo delle piramidi, visto che ormai più volte sono state tisate sappiamo essere già presenti ed è abbastanza scontato che rappresenteranno una parte fondamentale del prossimo arco narrativo di Destiny e insieme alle piramidi arriverà anche l'oscurità, che naturalmente approfondiremo in seguito. Faremo anche la conoscenza di un nuovo personaggio, una sorta di donna fantasma dall'aspetto simile a quello delle statue all'interno della piramide e nel corso dell'avventura ci riferiremo a lei come Winnower, bisognerà poi vedere come verrà tradotto. Inoltre in questo leak vengono menzionate ben due destinazioni, la prima Europa finalmente e mi preme sottolineare che non si parli del continente europeo ma del satellite Europa e la seconda una grossa città collocata all'interno della piramide di Winnower, quindi si ipotizza una struttura a due destinazioni simile a quella adottata dai rinnegati. Inoltre ci sarà un particolare focus attorno all'oscurità e ogni classe riceverà una nuova sottoclasse a tema proprio oscurità. E finalmente penso che sia arrivata l'ora e ci siano effettivamente le basi per costruire una nuova sottoclasse di questo tipo. Tutto sommato i guardiani sono cresciuti molto e così anche la narrazione e penso che questo sia il momento perfetto per espandere le abilità. E tre personaggi in particolare giocheranno un ruolo chiave e sono Kalus, Marasov ed Eris Morn. Proseguendo con le possibili novità, dovrebbe essere prevista anche una nuova razza di nemici che sono i Veil, che erano originariamente pensati soltanto però tramite dei concept per Destiny 1 e dovrebbero rappresentare effettivamente una nuova razza, quindi non come i corrotti o gli infami ma con effettivamente delle nuove unità, che non sarebbe male e francamente a sto giro me lo spetto anche. Inoltre secondo questo leak, questa espansione fungerà un po' da ponte per collegare Destiny 2 a quello che sarà Destiny 3, perché chiaramente arriverà e sono davvero curioso di vedere come lo gestiranno, visto che in fin dei conti per quanto riguarda almeno le console parliamo di un altro salto generazionale. Ultimissimo punto, perché questa nuova espansione dovrebbero essere previsti di nuovi assalti e un nuovo ride, in cui l'obiettivo dovrebbe essere quello di distruggere la forma fisica, messo tra virgolette, dell'oscurità stessa. Una sorta di grosso ride in grande stile, un po' come stato ultimo desiderio. Adesso queste erano le informazioni contenute all'interno del leak. Mi preme sottolineare nuovamente come però nulla di tutto ciò sia stato confermato, e se mai dovesse succedere, presumibilmente avverrà intorno giugno, più o meno il periodo in cui di solito Bungie annuncia l'espansione prevista per l'autunno. Per il momento però vi invito a prendere tutte queste informazioni con le pinze. Personalmente ci spero molto perché sembra un setting molto interessante, e perché già anche di mio mi aspetto alcune delle cose riportate all'interno di questo leak. In ogni caso, per il momento da parte mia è tutto, come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!